Elisabetta Miino La possibilità di stare in un posto al verde, tranquillo, fuori dal caos cittadino e poi una struttura accessibile anche per chi è in sedia dell'hotel o qualche difficoltà. Ci saranno anche atleti diversamente abili, questo è importante per una manifestazione come i Master Games? Sicuramente ormai lo sport paralimpico si affaccia su diversi fronti e sono ben contenta che sia presente anche nei Master Games. Io mi riservo ancora qualche anno prima di approdare, però insomma in bocca al lupo.